Siamo pronti ed annunciamo sul ring, all'angolo 2, il cosfidante al campionato d'Italia dei pesi medi, da Melissano Lecce, Andrea Manco! Il cosfidante al campionato d'Italia dei pesi medi, Andrea Manco! Il suo avversario è la segnerezza sul ring, all'angolo 2, il cosfidante al campionato italiano Il cosfidante al campionato italiano, all'angolo 2, il cosfidante al campionato italiano! Il cosfidante al campionato italiano, all'angolo 3, 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 il cos Grazie a tutti! 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 ! 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